Contratto fermo da più di tre anni, nessun bonus o premio produzione durante il periodo dell'emergenza Covid. Sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale per chiedere garanzie e un riconoscimento economico adeguato. Chiediamo che al pari di tutte le altre categorie di lavoratori venga rinnovato il contratto di lavoro. Il trasporto pubblico, seppur depotenziato, non si è fermato in questi mesi. Dalle aziende però non sono arrivate gratifiche per chi ha lavorato. I lavoratori non si sono tirati indietro, hanno sempre lavorato e anche per questo noi abbiamo insistito che volevamo un premio di risultato per il 2020, cosa che la società ci ha negato. Stiamo attendendo in queste giornate una risposta su un premio Covid. I sindacati confederali però erano anche in piazza Antenore davanti alla prefettura per tenere alta l'attenzione sul tema delle morti sul lavoro. Un incontro tra i segretari provinciali con il nuovo prefetto per chiedere che un tema così delicato sia presente nella sua agenda. Sono temi che non sono più rinviabili e quindi se un'azienda non è in grado di garantire la sicurezza deve sospendere l'attività, mettersi in regola e ripartire e da questo punto di vista anche prevedere la famosa patente appunti. Per esempio quando si partecipa agli appalti si partecipa se si è in condizioni davvero di garantire la sicurezza. La provincia di Padova è stata profondamente colpita dal tragico incidente dell'acciaieria venete. L'attenzione deve restare alta. Per noi diventa sempre più inaccettabile il fatto che tante donne e uomini muoiano, si feriscano durante il lavoro e per andare al lavoro perché non dimentichiamo che molti infortuni accadono anche durante il tragitto. Ora la necessità è di trovare ispettori Spisal. Il maggiore controllo e maggiore coordinamento anche tra questi ovviamente con personale assunto, preparato, formato, che sia anche a conoscenza giustamente di come funzionano i macchinari perché poi sarà fondamentale la formazione ai lavoratori, anche ai datori di lavoro.